Allora, un altro modo ancora di fare un bordino per uno scollo a V da applicare poi su uno scollo a V come rifinitura e lasciando sempre una catenella dritta al centro invece che con le male che si incrociano direttamente è questo. Allora, ve ne ho già fatto vedere uno, adesso ve ne faccio vedere un altro che è molto simile e scambiano solo un po' i punti utilizzati. Ecco qua, allora io sono arrivata, ho fatto una maglia dritto e una rovescio, sto lavorando una maglia a coste, questo bordino io lo voglio fare a coste e mi fermo a due maglie prima della maglia centrale. Allora, la maglia centrale deve essere un dritto sempre, quella che noi chiamiamo la maglia guida, è la maglia centrale dello scollo a V e deve essere un dritto. Allora, con questa tecnica qui, cioè con quest'altro modo di lavorare lo scollo a V, io faccio una cavallata semplice, quindi io passo una maglia a rovescio dalla parte di qua, lavoro un dritto sopra quello che poi era il mio rovescio e passo questa maglia sopra, questa è la nostra cavallata. Poi lavoro normalmente a dritto la mia maglia centrale che rimarrà sempre a dritto per tutto il lavoro e due maglie insieme a dritto le due successive, quelle dopo la maglia centrale. Ecco qua, questa è la diminuzione centrale che io ho fatto. A questo punto io andrò avanti, quindi io farò il mio rovescio, il mio dritto e così via fino alla fine del giro. Adesso finisco il giro, poi vi faccio vedere come lavorare il rovescio. Questo è il nostro dritto, ora vi faccio vedere anche il rovescio. Ecco qua, io ho fatto anche questa prima parte sul rovescio, vedete, questa è la mia maglia centrale che a prima e dopo, vedete, si presenta come tre rovesci e queste sono le tre maglie centrali. Io mi fermo a due maglie prima perché ancora una volta farò un accavallato semplice. Quindi passo la maglia a rovescio, lavoro questa maglia a dritto e accavallo questa maglia sopra. Poi lavorerò normalmente a rovescio la mia maglia centrale, la mia maglia guida e lavorerò insieme a dritto le due maglie successive. Quindi farò due maglie insieme a dritto, ecco qua, tirando bene il filo perché non mi rimanga lente. Ok, dopodiché io ora qui continuo. Io ora qui ho un rovescio, quindi lavorerò normalmente il mio rovescio, un dritto e così via fino alla fine del giro. Poi vi faccio vedere ancora una volta come fare sul dritto del lavoro. Ecco qua, sono nuovamente sul mio dritto del lavoro, ho fatto le mie coste e mi sono fermata a due maglie prima della maglia centrale. Questa è la mia maglia centrale e queste sono le due maglie prima. Quindi ancora una volta io passerò la maglia, lavorerò a dritto la seconda e a cavallo quella che ho passato sopra questa. Lavorerò normalmente a dritto la mia maglia centrale e poi farò ancora due maglie insieme a dritto dopo la mia maglia centrale. Ecco qua, ecco rifatta la diminuzione sul dritto. Quindi sul dritto io farò sempre, allora faccio altre due maglie così si vede meglio, un rovescio, un dritto, ecco qua, vedete. Quindi sul mio dritto io avrò sempre questa mia costolina che rimane sempre uguale e le altre e le diminuzioni che sono le maglie prima e dopo. Quindi io adesso finisco il mio dritto e vi faccio vedere ancora una volta sul rovescio. Ecco qua, io adesso sono sul rovescio del lavoro, ho rifatto le mie coste e ancora una volta quindi adesso mi trovo, questa è la mia catenella centrale che vedete qui è tutta al rovescio ovviamente perché sono sul rovescio. Quindi ancora una volta io passerò, farò una cavallata, quindi lavorerò a dritto la seconda e a cavallo con la prima passata, lavorerò a rovescio la mia maglia centrale che deve essere dritta sul dritto e farò due maglie insieme a dritto anche sul rovescio del lavoro. Dopodiché io andrò avanti con il mio dritto e rovescio normalmente fino alla fine. E ve ne faccio vedere ancora una in modo da, prima di chiudere il lavoro, da farvi vedere bene per l'ultima volta come si fa. Eccomi qua, sul dritto del lavoro sono, questa vedete è la mia maglia guida, questa qui mi sono fermata due maglie prima e ancora una volta farò una maglia passata, un dritto e un accavallato sopra questa e a cavallo appunto questa maglia. Quindi questa qui è un accavallato semplice sul dritto, poi lavorerò un dritto normalmente e due maglie insieme a dritto quelle successive. Il dritto normale era la mia maglia guida, vedete che deve rimanere sempre intera mentre le altre vanno a diminuire e così continuo ancora fino alla fine del ferro. Adesso sul rovescio io chiuderò il lavoro e vi faccio vedere poi come fare perché anche sul giro di chiusura, poi ovviamente voi potete fare quanti giri volete perché l'altezza del lavoro è soggettiva, non è che c'è una regola. Ora io questa qui mi viene circa un paio di centimetri che è un po' l'altezza standard diciamo di uno scollo a V per un maglione per esempio da uomo, però è a gusti anche perché le mode cambiano e quindi è giusto che ognuno faccia a proprio gusto. Allora io adesso faccio il giro di chiusura, sono sul rovescio del lavoro e lavoro così, dritto e rovescio comunque anche se poi chiudo, quindi io adesso inizio a chiudere il mio lavoro. Qui ho un dritto, lo lavoro a dritto e lo chiudo, qua ho un rovescio, lo lavoro a rovescio e lo chiudo e così via fino alla metà dove io farò la mia ultima diminuzione. Io lavoro le maglie, sto lavorando a coste, quindi le lavoro così come mi si presentano, quindi io farò un dritto dove ho il dritto e farò il rovescio dove ho il rovescio e le chiuderò fino ad arrivare, questa è la mia centrale, quindi ancora una. Allora questa è l'ultima maglia che io adesso chiudo normalmente, a questo punto io ho la mia solita diminuzione, perché questa è la mia maglia centrale, quindi devo fare un'altra diminuzione. Quindi faccio una maglia passata, un dritto e un accavallato, ecco questa è la mia diminuzione, dopodiché la chiudo, quindi faccio ancora una volta un'accavallata. Questa è la mia maglia centrale, la rilavoro a rovescio e la chiudo anche questa. Qui ho un'altra diminuzione, quindi io qui faccio le mie due maglie insieme a dritto e poi chiudo anche queste. Ecco qua, e così finisco il mio giro. Io qui adesso ho un rovescio, quindi la lavoro a rovescio e la chiudo. Qui ho un dritto, quindi lavoro a dritto e chiudo. E così via, fino alla fine del mio ferro. Ecco qua, e questo è il risultato finale. Vedete, questo è molto ordinato, a me piace molto anche questo. Ha la sua catenellina centrale, che rimane bene in vista quando si fa il lavoro. Vedete, questo ora ve lo dovete immaginare, ovviamente grande. Io ho fatto solo il pezzettino per farvi vedere come si fa, ma ovviamente questo deve essere grande quanto tutto il maglione. E questo è il risultato, vedete. Rimane questa bella catenellina pulita al centro e la chiusura che va a finire contro questa catenellina. Se fosse stata più alta, ovviamente avrebbe continuato. E qui possiamo farle anche alte così.